Allora, se l'ho detto questa sera, la prima parte sarà un po' tra virgolette cattiva, sarà il giudice, e sai che i giudici sono sempre visti con un occhio un po' così, perché dovrai giudicare e dare il voto ai nostri quattro concorrenti. Ma io sono più delle ascoltate attentamente, sono piaciute, sono più di me che si guarda, mi sono piaciute, ma mi avete tanto... Noi, 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 noi.